Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il nostro primo notiziario di giornata in diretta. Sfoglieremo anche le pagine dei giornali nazionali e locali per vedere quali sono le notizie principali di oggi. Ma cominciamo come sempre con la più stretta attualità andando a leggere quello che scrive sulla sua home page l'agenzia ANSA. Eccola, la home page dell'ANSA, nuova versione della pagina del portale, dell'informazione dell'agenzia più importante del nostro paese che dà spazio alla guerra e alla Russia che ha abbattuto due droni che erano diretti verso Mosca. L'annuncio è stato dato direttamente alla fonti della capitale, non sono stati registrati feriti. La conferma è arrivata dal Ministero della Difesa russa, sventato un attacco terroristico del regime di Kiev, titola l'agenzia ANSA in prima pagina. Per quanto riguarda invece le ultime ore, ce n'è una delle 4.02 di economia internazionale, la Cina è in deflazione per la prima volta dal febbraio del 2021. E adesso ci spostiamo sui giornali, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, cominciando dal Corriere della Seda che pubblica questo titolo, Borse e Banche il giorno nero. Cosa è successo con le banche? Il governo ha varato un provvedimento che intende tassare gli extraprofitti delle banche. Su questa iniziativa il listino alla borsa ha ceduto il 2,12%, era scattata l'irritazione degli istituti di credito che hanno detto siamo stati colti di sorpresa, tensioni e divisioni nella maggioranza, poi Giorgetti frena un tetto al prelievo. Andiamo a vedere invece la Repubblica Banche, governo diviso, vediamo anche in questo caso, tassa sugli extraprofitti, misura da 4 miliardi, la borsa ne brucia 9 e dalla maggioranza si levano voci critiche sul provvedimento. Il MEF corre ai ripari con un tetto al prelievo, il PD adesso che i soldi siano destinati alle famiglie più fragili. Andiamo a vedere la stampa, anche in questo caso si parla della tassa, sulle banche arriva lo stop di Forza Italia, le inquietudini dunque della maggioranza che si trova a fare un braccio di ferro tra i vari partiti che la compongono su questo tema. Tajani la modificheremo in Parlamento, crollo in borsa, sono stati bruciati ben 9 miliardi, l'ABI è pronta a presentare un ricorso. È il tema principale questo che oggi troviamo su tutti i quotidiani, anche sul giornale ed anche le banche piangono. La reazione dei mercati, la tassa sugli extraprofitti, terremota la borsa di Milano. Piazza Affari la peggiore d'Europa, bruciati oltre 9 miliardi. Ma Giorgetti ci sarà un tetto, questa è la reazione dei mercati. Il manifesto, il quotidiano comunista, minimo sindacale. Qui in questo caso si parla anche del tema del salario minimo. C'è un'apertura di Giorgia Meloni, ma il tema principale è sempre quello, in questo caso, delle banche. che dicono di voler tassare gli extraprofitti delle banche, concedono un incontro sul salario minimo, sul quale le opposizioni partono da un minimo di 9 euro per trovare un accordo e andare avanti, evidentemente ed eventualmente con questo provvedimento, il governo Meloni ha lasciato per strada la destra sociale e ora tenta di recuperare a suon di annunci e tavoli. Adesso andiamo a leggere il Fatto Quotidiano. Meloni, Grillina, Anti, Giorgetti, extraprofitti, la proposta del Movimento 5 Stelle bocciata otto volte ed ora copiata, Conte, ora tassi, farmaci e armi. E poi correzione di rotta imposta dalla Premier al Ministro, il capo dei 5 Stelle ci viene dietro, era ora, ma adesso tagli gli altri extra, salario minimo, venerdì ci sarà un vertice a Palazzo Chigi, per parlare di quest'altro tema che fa discutere la politica e i sindacati, il mondo del lavoro. Andiamo sul libero, sinistra sbancata, il governo aiuta i più deboli, è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che andiamo qui a leggere anche nella sua parte relativa all'occhiello, il governo aiuta i più deboli, il centro-destra tassa le banche, questo è il sommario, per aiutare le famiglie tratta sui salari, crolla la balla dell'esecutivo antipoveri, Dem e 5 Stelle balbettano, adesso arriva pure la stretta contro gli evasori, e poi qui invece andiamo a vedere Di Sallusti che scrive il suo pezzo, Conte ha ragione, meglio tardi che mai, ma chi ha perso tempo? Adesso andiamo sull'identità. Sborsa Milano, Lameloni e Salvini in primo piano, finalmente anche i colossi mondiali restituiranno ai cittadini una parte dei soldi guadagnati per l'aumento dei tassi, il governo tassa gli extra profitti e subito gli speculatori mettono in allarme banche e borse, la politica si divide, PD e 5 Stelle, il governo ci ha ascoltati, ma calenda frena, norma sbagliata e forse anche illecita. Vediamo adesso il foglio, in colore rosso al centro della pagina, la stagione dei troppi alibi, il più grande danno che Meloni fa a se stessa con il complottismo è costringersi a puntare su una classe dirigente inadeguata, la mainstreamizzazione non c'è, nascono i guai, banche comprese. Vediamo adesso invece sotto la testata, il quotidiano foglio in colore bianco, di cosa si occupa, si occupa di Chiara Ferragni che si indigna e chiede fino a che punto possa spingersi la dittatura della community che lei stessa ha creato, vittima evidentemente degli stessi meccanismi che le hanno permesso di diventare una delle donne più ricche del nostro paese. La verità che apre così, l'africano assassino doveva essere in carcere da un anno, lo squilibrio è uno dei principali spacciatori di Rovereto, già arrestato tre volte, segnalato nel 2022 alla DDA come membro di un'articolazione da sgominare della mafia nigeriana quando ha aggredito passanti e carabinieri, questi precedenti erano noti perché è stato liberato e poi retata antiterrorismo a Genova, presi i tipografi dell'anarchico cospito. Ed ancora Gallien Company, il rambo del Covid per i quali isolamento è una parola magica, l'isolamento sta per essere completamente abolito dalle procedure sul Covid e cioè potrebbe scattare a breve il provvedimento di azzeramento dell'isolamento per chi risulta positivo dal Covid, lasciando soltanto alcune precauzioni come la mascherina FFP2 nel caso in cui si sia positivi e basta senza dover più rimanere in isolamento, a meno che non ci siano le condizioni di salute che richiedano di rimanere a casa. Questo potrebbe essere l'ultimo passaggio per tornare ad una normalità completa e trattare il Covid come un qualsiasi virus influenzale. Andiamo sul gazzettino, le banche crollano in borsa, l'apertura anche sul gazzettino nella sua edizione generale sul tema delle banche, stangata sugli extraprofitti, bruciati 9 miliardi, poi il ministro frena un tetto alla nuova tassa, una dotera 2 miliardi per fisco e caro mutui, la Lega è la strata giusta, prudenti i forzisti. E poi si parla del suicidio assistito, è arrivato il primo via libera anche in Friuli Venezia Giulia, dopo il Veneto anche un'azienda sanitaria di Trieste riconosce dei requisiti per una donna malata e i requisiti riconosciuti dall'ASL di Trieste, che è l'ASUG, la Dina Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, sono quelli che considerano l'assistenza di terzi come indispensabile per alcuni malati di patologie, come per esempio la sclerosi multipla nel caso, nello stadio a cui è arrivata Anna, che è un nome di fantasia, che ha chiesto e ottenuto dalla ASUG il diritto di poter accedere al suicidio assistito, manca però ancora la pronuncia del Comitato Etico Regionale, quindi questa assistenza come indispensabile per mantenersi in vita è un requisito per poter chiedere di accedere alla morte assistita. Su questo abbiamo un servizio di Davide Zaninato che ci spiega cosa è stato deciso dalla commissione dell'ASUG di Trieste. La commissione medica multidisciplinare nominata dall'ASUG ha terminato la verifica delle condizioni di Anna, nome di fantasia, scelto da una donna di 55 anni che nel 2010 ha ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla secondariamente progressiva, patologia irreversibile, senza possibilità di cura e senza alcuna terapia possibile. Anna è completamente dipendente dall'assistenza, mangia, si lava, si muove, va in bagno solo se fisicamente è assistita da terzi. Con quel filo di voce che lei è rimasto ancora per poco, ha comunicato la sua ultima volontà, ovvero quella di accedere al suicidio medicalmente assistito. E ora l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, rispondendo alle richieste del Tribunale di Trieste, ha confermato che sussistono tutti i requisiti affinché la donna acceda alla morte volontaria. A renderlo noto, l'associazione Coscioni, che ha sottolineato come questo caso sia molto particolare perché per la prima volta in Italia è stato riconosciuto che l'assoluta e completa assistenza da parte di terzi rientra nei requisiti ammessi dalle ASL come trattamento di sostegno vitale. Quella di Anna è una patologia irreversibile, senza possibilità di cure e senza alcuna terapia, hanno ricordato dall'associazione, ed è davvero importante riscontro positivo arrivato dalla Commissione Multidisciplinare. A seguito di tutto ciò, l'azienda sanitaria potrà elaborare ora una propria relazione finale, indicando anche il farmaco letale, le metodiche di autosomministrazione, il luogo dove ciò potrà avvenire con l'assistenza del medico della SUGI e la fornitura di un farmaco e la strumentazione necessaria ad Anna che così potrà essere finalmente libera di decidere se e quando accedere all'aiuto alla morte. Volontaria assistita, ha concluso Filomena Gallo dell'associazione Coscioni. E adesso andiamo a leggere invece l'apertura del Sole 24 Ore con il quale chiudiamo la rassegna nazionale, andiamo a leggere della borsa e della tassa che affonda le banche. A piazza Affari gli istituti hanno perso 10 miliardi, listini in caduta del 2,12%, il MEF per il prelievo tetto allo 0,1% dell'attivo, soglie più alte sui margini, secondo i primi calcoli il gettito non dovrebbe superare i 2 miliardi di euro, quindi lo Stato riuscirà ad introitare non più di 2 miliardi di euro da questo provvedimento che tassa gli extra profitti delle banche, profitti che sono arrivati con l'aumento dei tassi di interesse. E poi bonus edilizi, poste, riapre gli acquisti, una buona notizia per chi ha i cosiddetti crediti in pancia, via da ottobre per persone fisiche, prime cessioni, fino a quota 50 mila euro, DL Omnibus a 110%, nuovo calendario a luglio, spese in aumento nei condomini, anche qui si parla poi del salario minimo con le opposizioni che rilanciano sulla soglia di 9 euro, e poi il Tribunale di Catania che dice stop alla retribuzione oraria fissata a 4,6 euro, il caso lo ha stabilito il Tribunale in questo caso. Adesso andiamo invece sui giornali locali, cominciando dal messaggero di Udine, vediamo quali sono i principali argomenti, l'apertura dell'edizione cittadina, si occupa della scuola e dei supplenti, senza paghe. Istruzione in Friuli Venezia Giulia, disguidi nel meccanismo degli accreditamenti, l'ultimo assegno è arrivato nel mese di aprile, pensate un po', non solo sono precari, non prendono neanche lo stipendio. Corea del Sud, un tifone è in arrivo, ed anche un gruppo di scout friulani, che poteva essere coinvolto, è stato trasferito, e poi ancora sulla prima pagina del messaggero Veneto, si parla anche qui della tassa sui extra profitti delle banche, e poi c'è il tema di Ialmicco e del centro per migranti, che potrebbe, dovrebbe, sorgere nella ex caserma, Caserma Lago, tante le proteste che sono esplose, proprio il caso di dirlo, nella città stellata di cui Ialmicco è una frazione. A Palmanova c'è davvero tanto fermento e agitazione per questa possibilità, che però ancora non è stata confermata, non ci sono conferme da parte né del commissario straordinario per la gestione dell'emergenza migranti, né da parte di esponenti governativi, del prefetto, e tantomeno da parte della regione che anzi, pur rimanendo Federica con la bocca chiusa, dalla sua segreteria fanno sapere che la regione non era al corrente di questa iniziativa del commissario di governo per la gestione dei migranti. Adesso andiamo a vedere la pagina della città di Udine, qui nella cronaca della nostra città, si apre con il progetto di Detoni, di un unico palazzo per gli uffici comunali, e l'idea del sindaco per riunire sotto lo stesso tetto tutte le sedi attualmente sparpagliate in città, al punto dopo tre mesi di amministrazione, privilegiati il dialogo e la partecipazione. Ieri è stata anche una giornata di ennesimo bilancio sopra luogo nelle città, nei comuni, che sono stati colpiti duramente dal maltempo, in questo caso Tricesimo e Reana del Royale, che sono state colpite dall'acquazione violento, dal temporale che si è abbattuto su queste città nella giornata di domenica, nel pomeriggio di domenica, con allagamenti e con danni tipici di quelli che causa il maltempo, a pochi giorni, a un paio di settimane, dalla grandinata che invece aveva devastato altri comuni, in primis Mortegliano, Bicinico. Angela Caino ieri è andata a seguire questo incontro, ascoltiamo le interviste che ha realizzato con i sindaci dei due comuni colpiti dal maltempo. Inondazioni ovviamente negli scantinati delle case, soprattutto qui a Tricesimo dei condomini, fognature che sono andate in pressione per sovraccarico di portata e danneggiamenti collegati un po' all'abbattimento di alberi, alla chiusura di strade, alla rottura di pozzetti e chiusini lungo le strade stesse. Poi ci sono stati anche dei danni ai privati, con le autovetture, alcune coperture leggere in plexiglass o in onduline che non presentavano particolare resistenza a una tempesta che tutto sommato qui a Tricesimo si è presentata in termini molto meno invasivi rispetto a quella di Mortegliano. Qual è l'intervento secondo lei più importante da realizzare adesso? No, l'intervento più importante in assoluto è quello della ricalibratura del rio Trasemana che si chiama così proprio perché parte da Tricesimo e che per secoli ha svolto la funzione di convogliamento delle acque meteoriche da Tricesimo verso Tavagnacco. Quindi questo rio da almeno dieci anni non viene manutentato né viene sistemato adeguatamente con un riadeguamento dell'alveo e crea questi problemi di impossibilità di smaltire le acque piovane che provengono e dalla canalizzazione delle acque bianche e dagli altri torrenti che affluiscono appunto sul Trasemane. Chi deve fare queste manutenzioni? C'è già un progetto? No, il progetto, no, il finanziamento c'è questo è un po' il paradosso perché risale al 2019 ed è un finanziamento di 600 mila euro della regione. Il problema è che il progetto lo deve fare il consorzio di bonifica della pianura fiulana che comunque è ferma rispetto a questo progetto ed è una cosa che adesso riprenderemo in mano con l'assessore Scocci Marro. I danni sono numerosi vanno divisi in tre categorie principalmente i danni agli edifici pubblici i danni alle abitazioni e alle attività commerciali e i danni al mondo dell'agricoltura. Allora per quanto riguarda i danni agli edifici pubblici abbiamo avuto delle infiltrazioni di acqua e dell'acqua depositata nelle parti più basse dei nostri edifici municipio, scuole, biblioteche e palazzetto dello sport. Quindi toccano tutti gli ambiti della nostra socialità che va dallo sport alla cultura alla scuola o non meno all'ente pubblico. E poi i danni maggiori si sono avuti nell'ambito delle abitazioni private e nell'ambito dell'agricoltura. Abitazioni private che hanno visto arrivare un fiume d'acqua e grandine negli scantinati che ha portato a avere anche acqua fino a un metro e mezzo all'interno di garage, di cantine o di taverne per diverse abitazioni, non solo private ma anche condominali. Abbiamo avuto una struttura commerciale che ha avuto sempre infiltrazioni nei magazzini sotterranei della sua struttura e quindi diciamo che questi sono i danni maggiori a livello di strutture mobili e immobili per i singoli cittadini del nostro territorio. E anche, non di ultima importanza, è l'aspetto del mondo agricolo. Mondo agricolo che ha visto toccato tutti perché sia i produttori, quindi che lavorano proprio e vivono con le risorse della terra ma sia anche i privati cittadini che hanno visto giardini e orti dove comunque le persone investono a livello di risorse, distrutti. Quindi un mondo di contadini che non potrà raccogliere tutto il seminato di quest'anno, che va dall'uva al grano alla soia, ai kiwi e anche proprio alle produzioni orticole quindi a tutte quelle che sono perché piccole aziende producono e vendono a chilometro zero. Quindi anche si è infranto un settore molto importante al giorno d'oggi che è quella della vendita a chilometro zero. Andiamo adesso sulla pagina del messaggero edizione di Pordenone dove l'impianto principale è uguale a quello delle altre edizioni ma la cronaca cambia. Ieri mattina c'è stato un investimento di una donna sulle strisce pedonali a Porcia donna ricoverata poi in gravi condizioni in ospedale e poi ci sono le offerte per il nuovo comando dei vigili del fuoco e sono tre ed infine ancora per quanto riguarda la cronaca lo trovano mentre abbandona i rifiuti e si becca una multa dai vigili. Questo è successo a Pordenone. Adesso lasciamo la prima per andare all'interno sulla pagina proprio di cronaca della città dove il tema è quello della nuova sede del nuovo comando dei vigili del fuoco la gara per l'appalto integrato è approdata alla fase di apertura delle buste e l'opera che sorgerà in Comina prevede un intervento di 14 milioni di euro. Adesso andiamo a vedere invece il gazzettino con la pagina del fascicolo dedicato al Friuli dopo aver letto i titoli della prima pagina il tema principale qui è la mala sanità e i risarcimento milionari responsabilità medica degli operatori l'azienda sanitaria Friuli Occidentale che è quella che si occupa della sanità del Pordenonese è costretta a pagare nel 2022 2 milioni 400 mila euro l'azienda sanitaria Udine Universitaria Friuli Centrale che è quella di Udine 7 milioni i declami presentati dalle aziende sanitarie riguardano soprattutto le cadute dal letto durante le visite e di ricoveri qui vediamo invece l'immagine dei carabinieri del nucleo subacquei di Genova che hanno collaborato con i carabinieri della nostra regione per recuperare dal mare alcuni tesori della antica Aquileia e poi l'analisi di questi reperti ha portato anche a fare una considerazione importante cioè che a largo di grado potrebbero essere sommerse delle navi dei relitti di epoca romana di epoca romana diversa di epoca diversa perché questi oggetti che sono stati portati alla luce che vediamo qui in questa foto dovevano essere stipati evidentemente in qualche imbarcazione romana che è rimasta nei fondali di grado quindi si va adesso alla ricerca di questi due relitti perché due perché gli oggetti ritrovati risalgono ad epoche diverse dell'impero romano per quanto riguarda invece lo sport il gazzettino in piede pagina pubblica due articoli anticipa due articoli che poi si sviluppano all'interno uno è per l'udinese con Cabasele e l'intervista al difensore che è arrivato a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra che sarà allenata per il secondo anno consecutivo da mister Andrea Sottil mentre da quest'altra parte c'è invece il basket con Ali Begovic e Caroti che sanno vincere un focus sulla situazione della palla a canestro per quanto riguarda in questo caso la formazione udinese dell'APU Old Wild West dal gazzettino ci spostiamo adesso alle pagine sportive dello stesso gazzettino per poi passare dopo al messaggero veneto e vedere anche le pagine nazionali Tovani inventa e Bosele spinge anche Wallace Beto e Sraga hanno impressionato subito mister e tifosi tra i giovani si è fatto notare Zemura poi abbiamo Success e Lucca che hanno bisogno di tempo per il primo per tornare al 100% dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori nella parte finale della scorsa stagione e lo ha costretto anche a lavorare ancora a parte dall'inizio di questa per tornare poi finalmente a disposizione ma ovviamente deve crescere e Lucca deve avere il tempo visto la sua fisicità imponente di poter carburare per bene ed anche lui di inserirsi ovviamente nei meccanismi della squadra questa la pagina la prima pagina di sport sul gazzettino poi il ciclismo la corsa mondiale del fiumano Olivo oggi in Scozia sarà in gara nella Crono è una grande emozione ne darò tutto e poi De Cassano la corte della eolo cometa di Contador sto coronando un sogno sfogliando ancora le pagine di sport si arriva su quella del basket che abbiamo anticipato in prima pagina con Alibegovic e Caroti che sanno come si vince scrive il gazzettino il due al duest di coach Bertemati che ha puntato su due giovani di carattere ed ancora ufficializzato l'arrivo a Udine del fisioterapista portogruarese Sandrini questo è il gazzettino andiamo sul messaggero veneto di Udine per vedere anche qui i titoli del fascicolo sportivo che si apre così Udinese ultimo spiraglio per Pereira che si sta allerando sul campo del Donatello ad Udine anche con tanta intensità dai video che vediamo pubblicati sui suoi profili social il Tuco si sta allenando aspetta una chiamata c'è stato un contatto tra l'argentino e il club bianconero anche la scorsa settimana vedremo se sono rose fioriranno come si suol dire in questo caso Pereira si continua ad allenarsi rimane ad Udine quindi il contatto può essere anche più semplice Samarzi all'Inter arriva un'altra frenata il problema è legato all'ingaggio del serbo a quanto pare nella trattativa Udinese Inter ha trovato l'accordo e il procuratore l'agente di Fabian dice che anche Fabian ha trovato l'accordo con Udinese il problema adesso sta nelle commissioni agli agenti che ruotano intorno a Lazar Samarzi dal padre ad altre figure che si occupano di lui che starebbero alzando la posta per quanto riguarda l'ingaggio si parla di cifre tra il milione e mezzo e il milione e ottocento mila euro all'anno per Samarzi con l'Inter che sarebbe ferma intorno al milione e quattro milione e cinque invece il papà che spinge per arrivare almeno ad un milione ottocento mila euro probabilmente perché anche lui deve riconoscere qualcosina tra virgolette agli agenti che curano gli interessi del figlio questa è la parte relativa al mercato che riguarda l'Udinese adesso andiamo avanti perché c'è la staffetta mista crono in programma si rompe il cambio l'Italia paga d'azio anche alla sfortuna in programma come dicevamo oggi invece in Scozia l'altra gara con l'atleta di Pordenone il frilano Moro pensavo di riuscire a dare molto di più si parla ancora dell'oro sfumato nell'inseguimento a squadre e oggi nella gara contro il tempo gli under 23 e tocca ad olivo appunto come abbiamo visto anche sul gazzettino e poi una notizia di mercato del ciclismo dei ciclisti Milan va alla Lidl Trek con un contratto fino al 2026 un ingaggio da top che sfiora il milione di euro a stagione poi c'è anche Arti Marziali Tavano per il giudolo dinese al 50 settimane dei giochi di Parigi e tra le qualificate ci sono ancora molte gare da fare tutte possono essere un'insidia e in piena corsa un passo alla volta non mi monto la testa andiamo adesso andiamo adesso a vedere invece le pagine nazionali di sport per chiudere questa nostra rassegna andiamo sulle prime pagine con la gazzetta dello sport che parla di Romelu Lukaku che ha tradito lo dice Javier Zanetti capitano storico dell'Inter l'Inter del triplete che viene considerata una bandiera interista delusione Lukaku ci aspettavamo un altro ci aspettavamo altro anche come uomo e vi racconto una vita tutta nerazzurra Lukaku come sapete si era promesso aveva promesso amore eterno all'Inter invece poi non si è fatto più trovare e vedete che prima o poi firmerà per la Juventus che aveva detto in un'altra intervista quando era andato al Chelsea non avrebbe mai accettato c'è più Milan con Reijenders ieri abbiamo visto il trofeo Berlusconi il trofeo Silvio Berlusconi nella prima edizione l'olandese brilla assieme a Loftus Cic contro il Monza Pioli rinforzi di alto livello il diavolo vince ai rigori questo primo trofeo intitolato a Silvio Berlusconi e poi CR7 siamo stati a casa del CR7 viaggio tra le stelle nel primo giornale europeo nel cuore della ricca Arabia nuova frontiera del calcio e a proposito di nuova frontiera del calcio ci sono ancora assalti ad Osimè da parte degli arabi l'Al-Hilal starebbe offrendo cifre pazzesche sia al Napoli che al calciatore ma la gazzetta dice Napoli assalto continuo perché ADL deve resistere c'è da dire che nessuno sta resistendo adesso si chiede ad ADL cioè ad di resistere vediamo cosa succederà attento Pogba ritorno sempre lontano stipendio a rischio taglio Allegri vuole Amrabat che è attualmente in forza la Fiorentina l'anno promossa Genoa Retegui che come sapete è l'attaccante di Undo che ha esordito anche il nazionale Boca e Bisnonno destino che giocassi qui e vicino anche Casa Dei questa l'intervista rilasciata da Retegui che dall'Argentina arriva in Italia per giocare nel Genoa ne ho promosso Corriere dello Sport 130 milioni per Napoli eccola l'offerta senza freni degli arabi offerta per Rosimène e per Zelinski insieme Lalilal e Lal sui due gioielli di Garcià ADL pronto a cautelarsi con David del Lille Chelsea di Gabri Veiga insomma situazione in evoluzione potrebbe a un certo punto il Napoli perdere sia Zelinski che Osimène il Chelsea intanto spinge tutto per liberarsi di Lukaku infortunio di Kuncu fa decollare lo scambio con la Juventus Pocettino premio per avere Vlaovic ieri a Monaco per un controllo Big Rom in partenza non ha nemmeno il numero di maglia al Chelsea che è la sua attuale squadra Roma tutto sul Zapata Marcos Leonardo pressa al Santos se non si allena l'Atalanta chiede 3 milioni per il prestito obbligo di riscatto fissato a 7 dopo il 40% di presenze Pinto sonda anche Muriel fallimento PSG i Big scappano il non progetto è arrivato al Capolinea secondo il Corriere dello Sport se ne vanno tutti chi va in Arabia chi a Real Madrid come probabilmente andrà Mbappé e quindi un progetto che dove aver bruciato una valanga di miliardi di euro ha portato soltanto a conquiste per carità ovviamente importanti di Ligue 1 scudetti in serie da parte della formazione parigina qualche anche tante coppe anche nazionali ma per il resto a livello internazionale quello che era l'obiettivo principale per esempio la Champions League non è mai arrivata nonostante i super campioni che sono passati e che ancora sono nella rosa della formazione parigina su Tutto Sport leggiamo invece di Juventus fedeli alla Juve Lukaku o no e sono i tifosi che sono stati interrogati dal Tutto Sport e oggi occupano la prima pagina del giornale con le loro dichiarazioni poi andiamo a vedere qui Arabi e Caviglia Napoli ansia per Osimè Inter Petagna Ausilio conferma la trattativa e poi Balogun ma non c'è solo lui De Laurentiis assalto a Veiga che avrebbe dato l'ok da quest'altra parte Baby Furlani salta nel mondo dei grandi per il lunghista laziale un oro che fa sognare in vista dei mondiali di atletica a Budapest strepitoso 8.23 agli europei under 20 che si sono svolti a Gerusalemme e poi continuiamo in senso orario per il tennis Sinner Berrettini derby all'italiana a Toronto sfida inedita Arnaldi ok e Sonego KO la Navratilova contro i Trans nel tennis andiamo a vedere questo è un tema che sicuramente vedete scatenerà tante discussioni un dibattito abbastanza acceso sicuro il Bari in Canada contro lo United che storia quando l'Oseto a Mutoli Best il quinto Beatle ti entro sulla bocca e questi non toccò palla la storia di un vecchio Bari United e il Bari affronterà lo United in Canada per una partita amichevole viene tirato fuori questo aneddoto del passato sul tutto sport siamo giunti al termine ma prima di chiudere vi faccio vedere quali sono i programmi principali di oggi sulla nostra rete eccoli qui oggi 9 agosto mercoledì mercoledì è la serata di Tag in Comune vi stiamo riproponendo le puntate più belle che ci hanno visto e hanno visto protagonisti Giorgia Bortolossi e il Poma in giro per i comuni del Friuli questa sera è il turno di rivedere Marano Lagunare poi come sempre il pomeriggio calcio alle 17.45 in diretti in esclusiva con le immagini dal centro sportivo Bruseschi dove l'Udinese sta continuando la preparazione e in questa settimana sta preparando la partita di Coppa Italia di venerdì contro il Catanzaro e poi come vedete la puntata di questa sera dedicata a Marano Lagunare di In Comune il meglio di vi lascio adesso alle previsioni del tempo grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata Ben trovati amici di TV12 situazione sul Friuli Venezia Giulia per la giornata di mercoledì quando ancora correnti un po' fresche in quota umide lambiranno la nostra regione con sporadici piovaschi o temporali del pomeriggio la serata su Alpi Prealpi e zone pedemontane bello altrove nel dettaglio Pordenone e Udine cieli segno poco umolosi delle nubi alte in transito alternate a schiarite verso il poveriggio qualche temporale a ridosso delle zone montuose temperature comunque fino a 27 gradi a Pordenone e Udine Gorizia e Trieste piena estate condizioni di bel tempo minime frizzanti fresche massime a tonnei 25-26 gradi cieli sereni o al più con nubi sparsi di passaggio ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo a Pordenone e Udine